allora buongiorno buongiorno allora questi sono i louverti che abbiamo raccolto ieri in un posto dove le troveremo sempre perché non va nessuno forse qualcuno ci va giuseppe allora questi sono i luverti sono quei quegli asparagi piccolini che sono salvati cieco poi mettiamo cinque uova un po di pepe formaggio tre cipolle e facciamo una bella frittata di luverti 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 si chiamano ok intanto volevo farvi vedere il mio sambuca guardate che bello ho messo del caffè dentro del caffè dentro guardate come è diventato guardate che colore che ha preso ma proprio buono porca miseria ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti